Venerdì 15 aprile, nuova edizione settimanale del Tg di Quilicata, benvenuti. Oggi è venerdì santo e anche se le processioni religiose quest'anno non si terranno, abbiamo deciso di dedicare buon parte della Tg alle varie processioni religiose che sono sentitissime qui a Quilicata. E a proposito di ciò, la chiesa di San Girolamo alla Marina è il luogo fulcro delle processioni della settimana santa. Oggi è stata aperta dai confrati della misericordia per l'esposizione del Cristo crocifero e dell'addolorata. Tanti dei voti sono accorsi, ci siamo andati anche noi. Vediamo! Sono le 11.30 del mattino del giorno del Venerdì Santo, siamo davanti alla chiesa di San Girolamo alle mie spalle e qui in questa piazzetta che nel giorno del Venerdì Santo ma anche il giovedì notte tutto inizia e tutto finisce. I riti della Pasqua iniziano proprio qui e poi le processioni, come è noto, hanno luogo in tutto il centro storico. Quest'anno non ci sono processioni, è stato deciso così per la preoccupazione legata al Covid-19, per il terzo anno non ci saranno i riti sacri nelle piazze. Stanno arrivando tantissime persone, noi saremo aperti come è ormai già comunicato sia di mattina dalle 8.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 14 alle 20.00. Due momenti particolari, di mattina il Cristo alla colonna, di pomeriggio il Cristo deposto invece nell'urna e di mattina avremo la visita di padre Stefano verso le 11.30 e mezzogiorno per un momento di raccoglimento intorno al Cristo. La sera invece verrà padre Tommaso il vicario Forense verso le 19.00, sempre per un momento di raccoglimento e chiuderemo la giornata con il coro della confraternita con asi versate lacrime. Ha quasi ancora mille contagiati, quindi ormai è andata così e speriamo che possa andare meglio l'anno prossimo e comunque la fede, la pietà popolare si possono manifestare in mille modi. Oggi è testimonianza di tutto ciò il fatto che sta arrivando tanta gente a visitare Cristo alla colonna. Ci saranno dei momenti di preghiera, come ha detto il governatore Gambino e quindi comunque è venerdì santo. La devozione si manifesta anche con gli ex voto, la richiesta di grazie. C'è una signora originaria di Licata che quest'anno è tornata appositamente in città per compiere il gesto del ringraziamento a Gesù, facendo indossare al proprio figlio, Leonardo, i panni del Cristo crocifero. L'abbiamo intervistata davanti alla chiesa di San Girolamo. Vediamo. Praticamente quando io ero in credenza mia mamma ha fatto una promessa verso Gesù che se tutto andava bene, durante il parto e la nascita, il bambino l'abbiamo vestito di Gesù. E quindi la promessa viene mantenuta oggi? Non c'è una data precisa, una fa la promessa e dice quando si può, visto che io vengo pure da fuori, che non sono nemmeno a Licata, diciamo, visto che c'è una venuta, abbiamo mantenuto la promessa. Ieri sera in tutte le chiese di Licata hanno avuto luogo la lavanda dei piedi e la cena ebraica. Si tratta dei cosiddetti sepolcri, in chiesa madre la veglia silenziosa del giovedì santo. Vediamo. Per la tua pubblicità su qui Licata, chiama subito il 320-7550-740. In ogni parrocchia di Licata hanno avuto luogo ieri sera la messa in cena domini e la lavanda dei piedi. Le immagini che vi mostriamo sono relative alla chiesa madre retta dall'arciprete Angelo Fraccica. Qui, dopo la lavanda dei piedi, ha avuto luogo l'adorazione eucaristica silenziosa. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni e gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. È su questo che hanno riflettuto gli scout e tutti i presenti. Nel santuario di Sant'Agostino, retto da Don Stefano Principato, alla lavanda dei piedi è seguita la celebrazione religiosa, durante la quale sono stati portati gli oli santi benedetti dal vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, nella messa a Crismale. Nella chiesa del Carmine, retta dal vicario Foranio di Licata e Palma di Montechiaro, Don Tommaso Pace, messa in cena domini, lavanda dei piedi e reposizione del Santissimo Sacramento. Nella chiesa Beata Maria Vergine di Monserrato, retta da Don Pino Agozzino, alla celebrazione sono seguiti le meditazioni a cura dei devoti. Oggi, in tutte le parrocchie, i riti del venerdì santo. A Palma di Montechiaro, invece, le processioni di Pasqua sono tornate, dopo due anni di stop a causa del Covid, sia pure con delle variazioni anti-pandemia. Ieri sera la prima processione, quella della Vergine addolorata, oggi quella del Cristo crocifero. Nel ringraziare Gioacchino Cigna per le immagini, andiamo a vedere il servizio. A Palma di Montechiaro, si è pure con tanti accorgimenti, considerato che il Covid-19 purtroppo è ancora presente, le processioni si fanno. Sono cominciate ieri sera alle 20.30, quando dall'oratorio del Santissimo Rosario, nella chiesa madre, è iniziata la processione della Vergine addolorata verso il Calvario. Sono state percorse le vie Castellino, il corso di Erna, la via Santa Croce e poi il ritorno in chiesa madre. Oggi, il giorno del Venerdì Santo, alle 13 è iniziata la processione del Cristo e della Vergine addolorata verso il Calvario. Alle 16 la deposizione del crocifisso e l'inizio della processione verso la chiesa madre. Alle 19 la liturgia della Passione del Signore in chiesa madre nelle parrocchie. Le iniziative si concluderanno con la processione di Pasqua con i simulacri del Cristo Risorto e la Vergine Maria che si incontreranno ai piedi della scalinata della chiesa madre e a seguire la messa. Apriamo ora la pagina dedicata al Covid-19. A Licato ormai siamo vicinissimi a quota 1000 positivi. Secondo i dati forniti dall'ASFA di Agrigento, oggi il numero dei contagiati è pari a 987, in deciso aumento rispetto ai giorni scorsi. In provincia di Agrigento i nuovi positivi sono 572, con tre persone ricoverate in ospedale. Ben 222 sono i guariti e purtroppo si registrano anche due nuovi decessi. Cambiamo argomento. In due giorni 50 automobilisti sono stati multati a Licata per violazione al codice della strada. È uno dei risultati ottenuti dalla Polizia nel corso della maxioperazione anticrimine condotta il 13 e 14 aprile. Vediamo tutti i numeri del controllo in questo servizio. Per due giorni, 13 e 14 aprile, gli agenti del Comestrato di Polizia di Licata, coordinati dal Vicequestore Cesare Castelli, hanno dato vita a una maxioperazione di controllo del territorio, soprattutto per prevenire il crimine. Insieme a loro hanno operato i poliziotti del reparto Prevenzione e Crimine di Palermo e quelli della sezione Polizia Stradale di Agrigento. Ecco i risultati, resi noti stamattina dalla Questura. 15 posti di controllo, 257 persone identificate e controllate, tra i quali, scrive la Questura, diversi pregiudicati. 118 veicoli controllati, 50 contravvenzioni per violazione al codice della strada, due documenti ritirati, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, aggiunge la Questura, sono stati controllati 37 soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e misure di sicurezza e di prevenzione. E sono stati effettuati 8 controlli presso pubblici esercizi, con particolare attenzione al fenomeno della illegale cessione di sostanze stupefacenti e alla vendita di bevande alcoliche a minorenni e persone in evidente stato di ebrezza alcolica. Raccolta dei rifiuti, l'ISEDA, ditta privata che si occupa del servizio all'Icata, ha annunciato che la differenziata avrà luogo regolarmente in tutti i comuni della provincia e quindi anche nel nostro nel giorno di Pasquetta. Effetto Ucraina, le conseguenze della guerra. È così che si chiama l'incontro che, organizzato dall'Associazione Nazionale Donne Elettrici, si è tenuto nei giorni scorsi al circolo in Podecleo di Agrigento. Tra i relatori anche il sociologo e docente universitario Francesco Pira. Ascoltiamolo. Tra i protagonisti di questa guerra sicuramente le fake news. Ogni giorno noi vediamo video, assistiamo a pronunciamenti, a racconti che non sappiamo se sono vere o se sono false. La macchina della disinformazione sta danneggiando anche il lavoro dei tanti inviati che rischiano quotidianamente la vita e che vogliono in qualche modo raccontare a noi che siamo seduti comodamente a casa la tragedia di una guerra che dopo 70 anni non immaginavamo. Il linguaggio è un linguaggio che è cambiato notevolmente ma è cambiato anche il modo di comunicare. La disintermediazione, nel fatto che moltissime persone possono postare sui social determinate cose sicuramente ci fa capire che è cambiato completamente lo scenario. Chiudiamo qui l'edizione odierna del Venerdì Santo di Quilicata. Appuntamento alla prossima settimana. Buona Pasqua e a presto!